Quali sono le chiavi che secondo te ti hanno dato quella marcia in più, ti hanno fatto conquistire a uscire fuori dalla massa? Allora, io ogni volta dico che secondo me il mio più grande punto di forza è la mia forza di volontà. Cioè io ho una forza di volontà talmente forte che io tre anni fa non ragionavo neanche, non prendevo neanche in considerazione l'idea che per caso potesse fallire il mio progetto. Non esisteva questa ipotesi, cioè io ero sicura che sarei riuscita, che sarei arrivata in qualche modo, non sapevo che ci sarei arrivata in così poco tempo, non sapevo che ci sarei arrivata in questo modo, ma io ero sicura che prima o poi nella mia vita quello che io desideravo così tanto mi sarebbe arrivato. Vivo talmente tanto così, con così tanta forza e così tanta voglia e fretta, proprio frenesia nel raggiungere le cose che desidero, che alla fine mi impegno così tanto che le raggiungo. Vivo talmente